Violenta grandinata su San Biagio Platani, ingenti i danni soprattutto all'agricoltura. Gaetano Revanati. I danni sono tantissimi, incalcolabili fino a questo momento, anche perché proseguono i sopralluoghi da parte del sindaco e dell'ufficio tecnico comunale per accertare realmente cosa è successo dopo la violenta grandinata di sabato scorso. Quello che è successo a San Biagio Platani non ha precedenti nella storia del nostro comune, dice un amareggiato sindaco, Salvatore Di Bernardo, il nostro piccolo paese composto da lavoratori onesti è stato colpito al cuore da questo tremendo nubifraggio che ha azzerato la produzione di pistacchi olive per cui San Biagio è conosciuto anche fuori dai convini regionali. La grandinata che si è abbattuta sulle nostre culture a pochi giorni dalla raccolta dei frutti, del lavoro dei nostri agricoltori comporterà l'assenza di reddito per numerose famiglie che mi onoro di rappresentare. Molte di queste famiglie, continua ancora il primo cittadino, come la quasi totalità dei cittadini di San Biagio Platani, oltre al raccolto hanno perso anche l'auto e sono in questo momento all'opera per coprire, per quanto possibile, i tetti delle loro abitazioni. Una popolazione forte, continua di Bernardo, che mai avrebbe pensato di essere vittima di un così catastrofico evento, saprà sicuramente riprendersi con la tenacia e l'orgoglio tipico di questa terra. Ma da soli risulta impossibile rimettere in piedi un paese che ha perso tre quarti della propria economia. È per questo che sto già provvedendo a richiedere lo stato di calamità per l'evento atmosferico occorso. Spero che le istituzioni regionali e nazionali si rendano conto dell'immane tragedia che ha colpito San Biagio Platani e agiscano quindi di conseguenza dando la massima disponibilità di aiuti e di risorse. Il comune, il sottoscritto e tutta l'amministrazione continua ancora di Bernardo sono già all'opera per le immediate e più gravi emergenze. Se ogni istituzione farà la propria parte, sono certo che riusciremo a superare insieme questo difficile momento. Intanto domani sera è stato convocato un consiglio comunale ad hoc, aperto a tutta la popolazione. Grazie. Grazie. Grazie.